Nessun risarcimento per i danni provocati dalla Grandine. La conferma arriva dalla Protezione Civile Nazionale che spiega come in Abruzzo non ci siano i presupposti per il riconoscimento dello stato di emergenza e quindi per risarcire danni. Il Consiglio dei Ministri quindi prende sotto gamba le conseguenze della calamità evitando di dover spendere una somma considerevole di denaro. La decisione è fondata su due motivi principali. Numero uno non vi sarebbe il cosiddetto rischio residuo ovvero il rischio idrogeologico che metterebbe in pericolo la comunità. Numero due non c'è stata la necessità di prestare assistenza alla popolazione ad esempio per lo sgombero delle abitazioni o ospitando i cittadini in hotel. La grandinata del 10 luglio scorso colse di sorpresa l'Abruzzo e si abbatte specialmente sulla costa con inaudita violenza. Il totale dei danni tra le quattro province è stato stimato in oltre 222 milioni di euro che quindi non arriveranno mai nelle casse della regione né tantomeno nelle tasche dei cittadini. Di questi 4 milioni e mezzo di danni sono solo quelli stimati per l'agricoltura. A causa del maltempo il raccolto di quest'anno è stato dimezzato e le aziende agricole sono ora in ginocchio e abbandonate a se stesse. Immediata la reazione del sindaco di Francavilla Antonio Luciani che punta il dito contro uno stato distante anni luce dai territori, dalle persone e dalla vita reale.